Gli occhi del cuore, gli occhi del cuore, Boris Userò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti Buonasera, è stata una grande delusione Perché? Ma come, non sapete? No, non so perso Dovevamo fare la prima, c'era tutta la truppa, tutto il cast, gli autori Ahia Hanno scioperato C'è lo sciopero in circuito particolare, quello dell'Adriano, non so quali altri cinema Lo sciopero doveva essere domani, però hanno pensato bene Lo spettacolo delle sette l'hanno fatto, quello delle otto e mezza non ce l'hanno fatto Cioè era stato preannunciato, poi ritirato, poi l'hanno fatto Dopo il film ci doveva essere la festa qui, infatti siamo venuti con un concerto altissimo Stasera non hanno detto nulla, capito? Cioè la gente, non abbiamo dovuto, gli autori, i registi hanno detto purtroppo abbiamo saputo Pensavamo fosse un pesce d'aprile Dobbiamo spaccare tutto E invece? Ma è una merda Però in alcune sali di Roma hanno proiettato Al Barberini, al Warner, al Pacero Perché? Eh perché, non lo so, nessuno ha rivendicato l'atto Cioè voglio dire, almeno venite sul palcoscenico a dire due parole Se non che lo fate a fare lo sciopero, chi lo sa Non lo so, hanno fatto vaser A cazzo di cane Cioè hanno solo frutto i coglioni, scusa Ciao Martellone Martellone lo sai che non lo so, Martellone sta godendo il successo del suo film Ha fatto il film su Quello che cassa di più in Italia, quello con la Cortellesi Martellone infatti non ci caga più ormai Martellone ha fatto i sordi con il film Mi hanno detto adesso, il regista, mi ha detto che Boris ha incassato più di tutti in Italia oggi Quelli che l'hanno visto alle 7, pare che sia piaciuto Questa è una bella notizia Festa Festa, ciao Ti dai Gli occhi del cuore, gli occhi del cuore, Boris Userò gli occhi del cuore, per capire i tuoi segreti